Benvenuti nel mondo degli orologi Spineka. Spineka è un marchio di orologi di lusso con sede a Hong Kong. La filosofia del marchio è quella di produrre orologi subacquei di alta qualità ispirati al mondo della vela e all'avventura. Gli orologi Spineka sono caratterizzati da un design unico e distintivo, con dettagli raffinati e un'attenzione per i particolari che li rendono veri e propri capolavori dell'orologeria. Ogni orologio Spineka è realizzato con materiali di altissima qualità, come l'acciaio Inox 316L, il vetro zaffiro e il movimento svizzero di alta precisione. Questa attenzione per i materiali pregiati utilizzati nella produzione degli orologi Spineka è testimoniata dal fatto che l'acciaio Inox 316L viene spesso utilizzato anche in applicazioni mediche e aeronautiche grazie alla sua resistenza alla corrosione e alla sua durezza. La collezione di orologi Spineka è disponibile in diverse varianti, tra cui orologi da uomo e da donna, orologi subacquei e orologi da polso. Gli orologi Spineka sono caratterizzati da un design elegante e sofisticato, con linee pulite e dettagli raffinati che rendono ogni orologio un'opera d'arte. Uno dei punti di forza di Spineka è la produzione di orologi subacquei adatti alla pratica di sport acquatici, come il subacqueo. Gli orologi subacquei Spineka sono dotati di caratteristiche tecniche avanzate, come l'impermeabilità fino a 200 metri, la lunetta girevole unidirezionale e i marcatori luminescenti per una facile lettura in condizioni di scarsa illuminazione. Questo rende gli orologi Spineka la scelta perfetta per gli appassionati di sport acquatici che cercano un orologio di alta qualità che possa resistere alle condizioni più estreme. Grazie alla loro alta qualità e alla loro attenzione per i dettagli, gli orologi Spineka sono molto apprezzati da appassionati di orologeria e sport acquatici di tutto il mondo. Se sei alla ricerca di un orologio subacqueo di alta qualità, Spineka può essere una scelta interessante da considerare. Grazie alla loro attenzione per i materiali di alta qualità e alla loro precisione svizzera, gli orologi Spineka sono un investimento duraturo che ti accompagnerà per molti anni a venire. Grazie a tutti.